ANSA VOICE DAILY, l'approfondimento di oggi Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. Medley, grandi classici e qualche sorpresa. Dopo giorni di rumors e anticipazioni, è ufficiale la lista delle cover che i big in gara Sanremo proporranno nella serata di venerdì 10 febbraio, appuntamento cult del festival che quest'anno abbraccerà i grandi successi dagli anni 60 ai 2000. Tra gli ospiti sul palco, da Elisa a Lorella Cuccarini, da Eros Ramazzotti a Carla Bruni, passando per The Kingdom Choir, il coro gospel britannico che accompagnerà Marco Mengoni nella sua versione di Let It Be The Beatles. A rivelare gli accoppiamenti ai titoli dei brani scelti, Amadeus e Gianni Morandi in collegamento con Fiorello e il suo Viva Rai 2. Dai bagni dell'Arison per evitare orecchie indiscrete e con i quadretti di Carlo Conti alle pareti. Anna Oxa ha chiamato il DJ e violoncellista albanese Li Yard Shaba per la sua hit Un'emozione da poco, portata all'Arison nel 1978. Ariete ha voluto San Giovanni per l'omaggio a Franco Battiato con centro di gravità permanente. Celebrata la pace con J-AX, Fedez sarà sul palco con gli articolo 31 per un medley dei loro successi, mentre con la pesce di Martino saranno affiancati dall'ex premier dam di Francia Carla Bruni, in azzurro di Adriano Celentano. Con l'azio in coppia con Dito nella piaga per Salirò di Daniele Silvestri, comacose con i Baustelle per Starà perché ti amo, superclassico dei ricchi e poveri. Dopo aver portato la Body Positivity sul palco del primo maggio e aver tentato la strada di Sanremo Giovani, Big Mama sarà sul palco con Elodie per cantare American Woman dei The Guest Who, mentre Arisa tornerà all'Arison accanto a Gianluca Grignani per la cover di Destinazione Paradiso che il cantautore presentò al festival nel 1995 tra le nuove proposte. Gian Maria ha voluto con sé Manuel Agnelli che ha incrociato X Factor per quello che non c'è degli after hours. Elisa e Giorgia, amiche nella vita, fianco a fianco in tante cause sociali e ambientali, saranno per la prima volta insieme a Sanremo per un medley di luce e di sole d'azzurro a 22 anni di distanza dal festival 2001 quando, poco più che ventenni, arrivarono prima e seconda. Medley anche per i Cugini di Campagna che con Paolo Vallesi interpreteranno La Forza della Vita e Anima Mia dai rispettivi repertori, mentre Laza con Emma e Laura Marzadori proporrà la fine di Tiziano Ferro. E ancora LDA in coppia con Alex Britti per Oggi Sono Io, Leo Gasman con Edoardo Bennato e Quartetto Flegreo, un medley dello stesso Bennato. Levante con Renzo Rubino per Vivere di Vasco Rossi, Madame con Izzy per Via del Campo di Fabrizio De Andrè, Mara Sattei con Noemi per L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino. Mengoni si cimenterà con un grande classico dei Beatles, Let It Be con il Kingdom Choir. Le vibrazioni accompagneranno i modà nel loro Vieni da me. Fasma sarà sul palco con Mr. Rain per qualcosa di grande dei Luna Pop. Atmosfera anni 80 con La Notte Vola che vedrà Lorella Cuccarini in duetto con Olli. Mi sono divertito a reinterpretare un pezzo iconico degli anni 80 e sono onorato di poter esibirmi sul palco con un'icona dello spettacolo come Lorella Cuccarini, una donna che ha fatto la storia della musica e della tv italiana. Sono felice che si sia fatta trasportare nel mio mondo con entusiasmo, sottolinea il cantante classe 2001. E revival anni 90 con i successi di Paola e Chiara insieme con Mark Cremont. Rosa Chemical con Rose Villain proporrà America di Gianna Nannini. Sei tu con BNKR44, Charlie fa il surf dei Baustelle. Will con Michele Zarrillo canterà 5 giorni di Zarrillo. Shari e Salmo hanno scelto un medley di zucchero. Tananai con Don Joe proporrà Vorrei cantare come viaggio di Simone Cristicchi, mentre ultimo ha voluto accanto a sé Eros Ramazzotti che si concederà un giorno di stop nel mezzo della partenza della parte europea di Battito Infinito World Tour che lo riporterà in Italia in primavera per tornare all'Ariston con un omaggio ai suoi 35 anni di carriera partita proprio da Sanremo.